100.000 euro di incassi a fronte di 1.600.000 euro di spese. I visitatori del Museo Civico di Bassano sono troppo pochi. Lavoraggine nei conti è stato uno dei temi caldi delle ultime elezioni comunali. Una questione riportata alla ribalta anche del dibattito politico cittadino attuale dai malumori delle opposizioni in consiglio e che diventa ancora più evidente ora che con l'estate la città si popola di turisti che in diversi casi non sono neppure a conoscenza dell'esistenza di un'esposizione così ricca di opere d'arte nel cuore della città. Il Museo Civico di Bassano? Non l'ho visto. Non conosciamo e non sappiamo neanche cosa c'è, cosa sia. Mi riservo di vederlo perché dipende com'è. Hai intenzione di visitare il Museo Civico? Lo conosci già? No, assolutamente. È la prima volta che venga a Bassano. No. Non sa dell'esistenza del museo questa coppia di turisti spagnoli che ammette che di Bassano conosce solo il nome e il ponte. Evidentemente è troppo poco per attirare molti visitatori. Forse ci vorrebbe più promozione. Tra i bassanesi i conti del Museo Civico suscitano più di una perplessità. Potrebbe essere risparmiato qualcosa se la gente facesse il suo dovere. Il turismo non manca qui a Bassano e mi sa che dovrebbe essere abbastanza usufruito. Bisogna anche divulgarlo meglio forse perché non tutti conoscono. Anche noi bassanesi stessi conosciamo quasi più questo degli alpini e magari quello lì è il cuore più storico. Il bar è anche più ricco, culturamente anche più ricco, anche a 10 anni ovviamente, più vecchio. Lo conosciamo meno. Grazie. Grazie.